Ciao, oggi voglio parlarti delle biotipologie. Le biotipologie sono un modello che sono in stato ideato da Sheldon. Sheldon suddivide l'individuo in tre macrocategorie che sono l'ectomorfo, il mesomorfo e l'endomorfo. Che cosa sono questi termini? Allora, devi sapere che durante la bozza embrionale il feto viene formato da tre foglietti embrionali che sono appunto l'endoderma, l'ectoderma e il mesoderma. Durante appunto questo sviluppo però i foglietti embrionali prendono una sorta di predominanza, quindi non si svilupperanno in ugual modo ma uno diventerà maggiore rispetto agli altri. E' da qui che si viene a creare il morfotipo, quindi come ti dicevo il mesomorfo sarà quell'individuo con la predominanza del foglietto embrionale mesodermico, l'ectomorfo avrà una predominanza dell'ectoderma mentre l'endomorfo ha una dominanza sull'endoderma. Cosa sono questi foglietti? I foglietti sono parti costituenti del nostro corpo, ossia il mesoderma è la parte che andrà a costituire il sistema muscolo-scheletrico mentre l'endoderma creerà il nostro apparato viscerale e l'ectoderma il sistema nervoso. Queste persone si possono anche riconoscere in maniera visiva in base alla loro morfologia. Immaginati il mesomorfo come il personaggio di Rambo, quindi un personaggio molto potente, muscolare, forte, sono quelle persone che per riposarsi fanno addominali e flessioni, quindi sono delle persone sempre attive che soffrono nello stare a riposo. L'endoderma invece è quella persona un po' più grassottella, un po' più pienotta, con la pelle tendenzialmente un po' sollucido e che preferisce cedere ai piaceri della tavola piuttosto che fare un'attività fisica e l'ectoderma invece, l'ectomorfo è quell'individuo che sviluppa principalmente il sistema neurovegetativo, quindi neurologico, e sono quelle persone ad esempio molto alte, fine, magre, con il collo lungo, che sono tendenzialmente più intellettuali che fisiche, quindi sono persone che preferiscono leggere un buon libro piuttosto che andare a fare una corsa. Ora, queste tre tipologie sono interessanti perché offrono un concetto di terreno, cioè un terreno fertile predisponente per sviluppare determinati tipi di sintomatologie. Questo perché? Perché abbiamo il nostro terreno, che è quello che è l'innato, sia come siamo nati, e poi c'è il vissuto, cioè quello che andiamo a fare durante la nostra vita. Quindi, ad esempio, un paziente ectomorfo che decide di iscriversi a tennis o di diventare un bodybuilder, sicuramente avrà delle caratteristiche fisiche che saranno un po' meno idonee, quindi tendenzialmente più predisponenti a diventare sintomatiche o a sviluppare, per esempio, delle tendiniti. Questi sono soltanto degli spunti di riflessione su cui ragionare. Essendo così diverse queste tre tipologie di pazienti, sicuramente avranno necessità di trattamenti completamente diversi. Quindi il mesomorfo è un paziente che risponderà molto bene a trattamenti energetici, potenti, trust manipolativi, mentre l'ectomorfo avrà più una predisposizione, vivendo su un sistema neurologico, ad aver bisogno di tecniche più neurovegetative che lo tendano a calmare, come ad esempio anche un TGO. A differenza dell'endomorfo, che avrà principalmente disturbi sul punto di vista viscerale, e quindi le tecniche viscerali sono sicuramente la sua chiave di lettura più importante. Ci vediamo al prossimo. Ciao!